buongiorno a tutti e benvenuti sulla biblioteca nel bosco io sono letizia ed oggi riconoscerete sicuramente la postazione organizziamo le mie wishlist amazon quindi scegliamo qualche vostro consiglio infatti qui ho cinque commenti che mi sono arrivati un bel po di tempo fa in realtà perché sono un po indietro nel rispondervi quindi perdonatemi non ho avuto il tempo di guardare appunto gli altri consigli che mi avete dato in queste due settimane praticamente che non sono riuscita a rispondere ai commenti su youtube ma sto cercando di organizzarmi perché insomma sta diventando complicato starci dietro quindi sto cercando di trovare una quadra vi dico la verità per riuscire a starvi dietro ma non sono ancora convintissima della soluzione che ho trovato la metterò in pratica in questi giorni vediamo se così riesco a rispondere a tutti e soprattutto a leggere tutti i vostri consigli allora direi che bando alle ciance intanto fatemi fare una cosa cioè guardare malissimo il mio router perché ultimamente stiamo diventando matti perché la connessione internet non è che va e viene proprio manca praticamente ci sono dei piccoli sprazzi di lucidità da parte del nostro router che decide di funzionare e infatti è un po che stiamo lottando con questa cosa ma penso che cercheremo un'altra soluzione e insomma disdiremo l'abbonamento con il nostro operatore perché stiamo pagando essenzialmente per non avere quello per cui paghiamo quindi lo guardo un attimo male perché ora funziona e per fare questa cosa ovviamente mi serve internet quindi non vorrei utilizzare l'hot spot del telefono perché mi sto mangiando volta per volta un sacco di giga e ogni volta infatti ne aggiungo pagando di più ma non si può andare avanti così allora partiamo con la registrazione schermo e guardiamo un attimo la situazione generale delle mie liste partiamo con la lista vuota quella dei classici c'era espiazione di ame kiwan che poi ho acquistato e quindi questa per ora è vuota prevedibilmente perché io i classici fantascienza e distoppici c'è ancora qualcosina ma è un po scarna effettivamente perché molti li compro cioè non faccio in tempo a metterli qui dentro che li acquisto più altri distoppici sono tra i miei generi preferiti quindi capirete bene che appena li agguanto su vinted ciao arrivederci horror horror già più corposa ma è una finta corposa perché ci sono praticamente tutti i libri di una collana quindi insomma è facile così narrativa in narrativa ci sono molti libri che abbiamo visto essere stati nominati dal new york times sui 100 libri più rilevanti del venturesimo secolo e bla 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 e poi alcuni vostri consigli per esempio questi quattro più marila strabica qua sotto me li avete consigliati voi e poi vabbè ci sono altri libri di narrativa che io comunque si avevo già inserito in puntate precedenti saggi anche in questo caso la lista dei saggi si è un po ridotta perché molti li ho acquistati presi da un raptus e poi thriller che possiamo dire oltre a quella di narrativa è quella più ampia e varia anche in questo caso ci sono diversi vostri consigli e quindi iniziamo da loro direi 5 consigli che ho qui sabrina dopo avermi appunto recensito in breve dei libri che avevo inserito all'interno di un video mi consiglia la casa sull'estuario di du morier io di lei ne ho già letti 5 6 ora ho in lettura la sua biografia che mi sta piacendo moltissimo cerchiamolo ha un'altra cosa che io adesso scusate sto facendo nel mentre è aprirmi la lista amazon che ho su notion io infatti tutti i titoli che mi consigliate voi li metto anche su notion in modo da ricordarmi quali ho già citato e quali no e insomma mi torna molto più comodo se volete comunque ho intenzione di fare più avanti se non ero forse proprio in queste settimane un bel check su come organizzo le mie letture e non su notion quindi libri letti libri non letti libri che vorrei acquistare libri che ho già acquistato ma non ho ancora letto quindi sono in libreria insomma ho un bel database bello ricco e corposo con tutte delle sottosezioni eccetera eccetera che magari può essere utile perché per quanto mi riguarda è utile anche quando registro video quindi cioè mi crea proprio praticamente il database dei video pronti da portare per voi ed è necessario dal momento che oltre al lavoro oltre alla casa è tutto registro praticamente tra un canale e l'altro tre video settimana li monto io insomma quando riesco a crearmi queste cose che mi danno un'enorme mano nel senso che proprio mi creano contenuti loro senza che io debba starci troppo a pensare sono molto soddisfatta di me stessa ecco detta proprio in breve allora passiamo alla casa sull'estuario questo è un libro che viene classificato sotto fantascienza leggiamo un attimino la trama Dick Young è un giovane inglese con un modesto e banale impiego in una casa editrice londinese e un'ambiziosa moglie americana che lo vorrebbe a New York a lavorare nella fiorente impresa editoriale di suo fratello un giorno Dick viene invitato a cena dall'amico storico dei tempi di Cambridge Magnus Lane divenuto nel frattempo un luminare della biofisica durante la cena Magnus accenna quasi di sfuggita la possibilità di poter ospitare l'amico e la sua famiglia a Kilmart nella casa in Cornovaglia ereditata dai genitori qualcosa mi dice che non sarà un luogo particolarmente ospitale un'offerta allettante il miraggio di lunghe e incantevoli giornate passate a poltrire in un giardino o a vegetare in una baia è certamente preferibile per Dick alla prospettiva di un fastidioso trasferimento a New York già questo Dick mi sta simpatico, devo dire che ci capiamo dopo qualche bicchiere di brandy Magnus raddoppia la sua offerta nel laboratorio di Kilmart ricavato nella vecchia lavanderia seminterrata Dick potrebbe sperimentare qualcosa di straordinario una droga ottenuta mescolando una certa pianta con delle sostanze chimiche che non trasporta come la mescalina o l'LSD in un luogo fantastico popolato di meravigliosi fiori esotici ma in un mondo reale fatto di essere altrettanto reali il passato ah, una specie di macchina del tempo mentale quindi cioè praticamente stiamo entrando in Breaking Bad ma Breaking Bad fantascientifico soggiogato dalla personalità di Magnus di Caccetta e ovviamente una volta nella casa sull'estuario nel macabro laboratorio popolato di embrioni sotto vetro e teste di scimmia beve la pozione preparata da Magnus e si ritrova nella cornovagna del 14esimo secolo al cospetto di dame e cavalieri boh, basta! fighissimo! grazie del consiglio veramente fighissimo lo mettiamo subito nella fantascienza eccolo e lo aggiungiamo anche nella wishlist Amazon allora per aggiungere il coso nella wishlist Amazon torno indietro evidenzio la scritta assicurandomi che rimanga rossa in questo modo vi faccio vedere allora facciamo command C e command V per fare copia e incolla nei computer normali è control C, control V io devo fare command perché sono appunto Mac comunque vedete che viene sottolineato in grigio invece che banalmente in nero questo vuol dire che praticamente nel momento in cui vedete qua è un link quindi quando io clicco uno di questi nomi che ho registrato nella mia wishlist Amazon il computer mi rimanda direttamente alla pagina Amazon così almeno non devo perdere tempo a copiare la trama eccetera eccetera quando voglio delle informazioni più complesse nei riguardi di determinati libri io semplicemente clicco sul nome e vedo tutto nella pagina Amazon quindi un'altra cosa che io segno poi è l'autore in questo caso l'autrice e anche qui faccio così in questo caso non mi viene link ovviamente perché ho fatto il come si dice il multi select e il genere fantascienza eccolo qua poi Danilo mi consiglia se vuoi leggere un romanzo folle ti consiglio Pasto Nudo eccolo qua stavo cercando di memorizzare se l'ho già visto da qualche parte ma è la prima volta che vedo questo libro nel romanzo scritto in anni in cui questi temi e queste realtà venivano generalmente schivati Burro che pronuncia offre il racconto allucinato dell'inferno di un tossico lacerato tra la necessità impellente della roba e il richiamo molesto della carne braccato da polizie e spacciatori lì il suo doppio trascorre le giornate insordi di luoghi pervasi da miasmi del corpo e dalle fobie della mente scavando nelle proprie ferite con lacume della paranoia e un'acrobatica inventiva stilistica l'autore tratteggia un ritratto dell'America all'acido fenico un ritratto cui la vita quotidiana ha tentato con gli anni di adeguarsi cioè mi stai dicendo che questo è il punto di vista di un tossico adoro adoro tantissimo dove viene messo questo qui nei narrati sette stoviglie viene messo nei sette delle stoviglie questo libro penso di non poter creare questa perché sento stoviglie scusate scusate non so perché mi fa così ridere questa cosa allora andiamo a vedere un attimo i commenti vabbè questa si è lamentata giustamente perché c'era il pacco aperto poi un capolavoro non è per tutti alcuni capitoli sono forti stomachevoli volgari tossici e quant'altro ma è proprio per questo che io lo adoro anche noi penso lo adoreremo per lo stesso motivo a me questi questi libri che ti portano molto fuori da quella che è la tua vita a vedere cose anche che possono far male ecco mi piacciono molto perché mi portano a vedere appunto una realtà che io grazie al cielo vorrei anche dire non vedrò mai almeno spero nella mia vita e quindi niente sì sicuramente lo mettiamo però nella narrativa o secondo voi dovrei creare la lista delle stoviglie poi Barbara mi consiglia la Mazzantini la adoro è la mia scrittrice italiana preferita e ho letto tutto ti consiglio anche Splendore Venuto al mondo e Il cattino di zinco allora Venuto al mondo ce l'ho già in una wishlist e lo conosco già cerchiamo Splendore e Il cattino di zinco perché non me li ricordo cioè magari li ho già visti ma non ho memoria eccolo qua allora il discorso è uscito perché io della Mazzantini ho Non ti muovere che ogni volta viene praticamente messo e ritolto dalle TBR mensili perché tra tutti i libri che ho nelle mie TBR che sono spesso molto ricche non lo scelgo mai ora io effettivamente prima di affrontare altri suoi titoli visto che è un'autrice che non so se può fare al caso mio vorrei appunto leggere quello ma chissà quando capiterà vabbè intanto leggiamo un attimo questa trama di Splendore Avremo mai il coraggio di essere noi stessi? Già però questa prima domanda non è male si chiedono i protagonisti di questo romanzo due ragazzi due uomini due destini uno eclettico e inquieto l'altro sofferente e carnale un'entità frammentata da ricomporre come le tessere di un mosaico lanciato nel vuoto un legame assoluto che si impone violento e creativo insieme al sollevarsi della propria natura un filo d'acciaio teso sul precipizio di un'intera esistenza i due protagonisti si allontanano crescono geograficamente distanti stabiliscono nuovi legami ma il bisogno dell'altro resiste in quel primitivo abbandono che li riporta a se stessi nel luogo dove hanno imparato l'amore un luogo fragile e virile tragico come il rifiuto ambizioso come il desiderio allora già così posso dire che è interessante è molto interessante quindi sì lo mettiamo in narrativa più che altro se posso dire chi ha scritto la sinossi ha fatto un ottimo lavoro perché attira proprio poi il catino di zinco eccolo qua sono tutti con la Oscar Mondadori che posso essere onesta a me le copertine della Oscar Mondadori non è che piacciono molto al centro di questo romanzo c'è l'esistenza drammatica di una donna coerente e volitiva che riesce sempre a conservare con coraggio e tenacia la sua indipendenza interiore mi piace mi piace mi piace va a finire che non ti muovere è quello forse meno nelle mie corde della mazzantina a questo punto è antenora eroina di un mondo arcaico nel quale pur confinata all'interno delle mura esercita un matriarcato energico indiscusso sto cercando di capire scusate un attimo la trama più che altro perché adesso anche qui molto figo però io non capisco le trame di questi libri cioè di cosa mi stai raccontando ok i sottotesti ma la storia in sé qual è va bene praticamente questa donna affrontata dittatura e guerra eccetera eccetera di fronte alla sua morte una donna di un'altra generazione dalla nipote ne tratteggia un superbo ed evocativo ritratto non lo so un romanzo intenso costruito attorno a una donna in grado di essere sempre se stessa nonostante l'ostilità del mondo e della storia allora trama interessante sicuramente lo mettiamo in narrativa però posso fare una piccola critica cioè io ora ho capito a grandi linee praticamente tutti i sottotesti mi sono stati già svelati quindi io non ho il piacere di riscoprirli e da volte secondo me è proprio il bello delle letture cioè capire che cosa ti vogliono trasmettere però vabbè comunque di per sé sembra interessante benissimo sto registrando da 26 minuti e ho visto una cosa come 4 titoli quindi magari ci diamo una svegliata poi Susan mi consiglia un matrimonio americano che l'ha fatta addirittura uscire dal blocco quindi potrebbe essere molto interessante allora il libro è questo di Tylari Jones allora sapete che un attimo ho letto la trama non riesco bene a capire perché sembrerebbe un libro di narrativa però con un qualcosa di un po' angosciante sotto in pratica è la storia di questi due coniugi Roy e Celestial che non navigano nel loro un giorno il marito Roy si fa sfuggire un qualcosa nei confronti della moglie che insomma li porta a un furioso litigio lui prende il secchiello del ghiaccio quindi presumo che si trovino all'interno di un albergo per cercare di sbollire e in corridoio incontra una donna più anziana di lui potrebbe essere sua madre la accompagna in camera perché lei gli chiede aiuto però da quel momento sarà per Roy l'ultima serata felice che trascorrerà per molto molto tempo quindi non capisco come sia possibile che lui sia passato anche qua mi dà in narrativa contemporanea dal ok va tutto bene abbiamo litigato al vado in camera di questa signora e improvvisamente tutto va ancora peggio sto guardando un attimo i commenti a quanto pare la coppia sarà costretta a separarsi per un lungo periodo e la distanza forzata tra i due metterà a dura prova il loro giovane matrimonio la storia è travolgente leggera fa soffrire ma riempie il cuore vorresti poter abbracciare i protagonisti e sussurrargli che andrà tutto bene vorresti potergli dare un po' della tua forza e del tuo coraggio non posso che consigliare la lettura di questo intenso libro comunque sì lo mettiamo in narrativa perché devo dire che è interessante allora questo invece è un direct di instagram chicca non dico nient'altro mi ha consigliato di leggere una saga di lucinda riley che a quanto pare lei conosce molto bene di cui ho in precedenza messo un libro in wishlist e mi ha consigliato la saga delle sette sorelle ora la cerchiamo e la miseria quanti ce n'è? otto otto libri ok c'è anche su audible oltretutto allora ma di che cosa parla allora ti dico la verità a primo sguardo a me sembra una saga romance a primo sguardo dalle copertine almeno magari posso sbagliarmi però facciamo che ne apriamo uno e vediamo sotto quale genere lo infila al di là del fatto che sono anche belli corposetti però c'è un ottimo gradimento 4,3 su 7.875 perché non l'ho mai sentita nominare questa saga? sì però effettivamente viene classificato infatti sotto romanzi rosa allora non sono proprio il mio genere dico la verità leggo un attimo la trama vediamo se mi ispira al primo ma io non prometto nulla nel senso che io di Lucinda a Rilley se non ero avevo messo un thriller eh sì eccolo qua sono andata un attimo nella wishlist questo è un libro thriller della Rilley allora facciamo che visto che era un libro molto quotato quello ma come thriller io metto il primo a scatola chiusa nella devo creare una wishlist romance non pensavo sarebbe arrivato questo momento ma lo facciamo se mi piace il thriller soprattutto il modo di scrivere eccetera eccetera potrei pensare potrei pensare ok però è un roman cioè ricordiamoci che è un romanzo rosa e i romanzi rosa proprio non andiamo d'accordo quindi ci metto il primo perché mi voglio fidare sia di te sia per il fatto che oggettivamente c'è un grado di apprezzamento molto alto quindi facciamo così wishlist librosa romance crea boh eccola qua signori non si torna più indietro l'abbiamo creata e devo anche crearla su notion perché ovviamente non esisteva facciamo che la mettiamo questa rosa e i saggi lo coloriamo di un altro colore facciamo blu i saggi ecco così non ci confondiamo ora direi che possiamo passare alla mia wishlist su goodreads che verrà poi piano piano svuotata non solo perché inserirò nelle wishlist amazon ma proprio perché poi voglio svuotarla per inserire tutto in una grandissima wishlist su notion perché è molto più pratico secondo me e un libro che mi ha incuriosito subito nel momento in cui ne ho sentito parlare da una ragazza su instagram non ricordo il nome ma non l'avevo mai sentito e mi ha incuriosito un sacco ed è questo il libro degli esseri a malapena immaginabili ora questa è una specie di bestiario corredato anche da immagini creato da caspar anderson che è andato fino negli abissi per cercare delle famiglie di viventi di cui noi ignoravamo l'esistenza descrivendo ovviamente le loro particolarità caratteristiche eccetera eccetera poi io in realtà qua nella copertina vedo anche un gufo almeno quello che sembra un gufo quindi forse è una scimmia quindi magari non stiamo parlando solo di esseri degli abissi però sembra veramente molto molto interessante e ovviamente finisce dritto dritto nei saggi oltretutto fa parte degli adelphi ma è un'edizione come vedete un po' più particolare un po' diversa dai soliti infatti costa un po' cioè costa 36 euro però è figo è uno di quegli argomenti che mi interessa sempre e se vado sotto ci sono altri saggi di questa collana che mi vengono consigliati quindi io proporrei di andarli a vedere animali non umani famiglia, bellezza e pace nelle culture animali di Carl Safina guardate il cursore sto leggendo qua Safina demitizza infatti l'unicità di tante nostre facoltà e comportamenti paragonandoli a quelli di specie nascoste nelle profondità delle foreste pluviali e degli abissi oceanici il che vale per gli strumenti tecnologici per la capacità linguistico musicali o per le cure e gli insegnamenti parentali che riassume la lezione esemplare di certe scimmie antropomorfe o dei capidogli presso i quali una neofita inantesa di cibo nelle acque tiepide di superficie e la madre a caccia di calamari nei fondali genridi sono legate dal filo invisibile dei click dei sonar fighissimo fighissimo anche questo finisce subito il wishlist raga ce n'è altri qua sotto vado in crisi come faccio io ce li infilo tutti al di là delle parole che cosa provano e pensano gli animali altrimenti il polpo il mare e le remote origini della coscienza no vabbè allora al di là delle parole sempre dello stesso autore comunque sempre di carla safina e niente ci racconta di come pensano gli animali no le gerarchie sociali dei lupi questo mi interessa per l'allino mi interessa poi vabbè l'allino è un cane lo sappiamo è solo una piccola percentuale di lupo però oddio è anche troppo piccola però sì vabbè lui fa parte della catena degli scemo slovacchi quindi non è non è paragonabile allora sì anche questo decisamente sotto ah ok mi ha riconsigliato i soliti meno male perché con quello che costano questi libri sinceramente c'è anche da svenarsi comunque anche questo finisce nei saggi assolutamente sì no ragazzi questi temi poi quando li prendo in mano ci metto una vita e mezzo per riuscire a finirli perché mi impiegano tanto tempo sono lì postitto sottolineo scrivo annoto però ci metto un sacco ci metto veramente cioè sono libri che proprio mi impiegano tanto tempo oltretutto sono 687 pagine sono andata sotto guardate quante ce n'è come addomesticare una volpe e farla diventare un cane la mente del corvo pensieri della mosca con la testa sto cos'è? ma il bello è che poi questi libri non è che sono stati letti da tantissimi però quei pochi che li hanno letti li hanno votati benissimo perché effettivamente forse sono molto interessanti ecco questo è già una lunghezza più umana 221 pagine allora diciamo che l'autore di questo libro sta un attimo discostato dalla neuroscienza moderna basandosi su animali con un sistema neurale molto molto semplice ed elementare come potrebbero essere appunto le api le mosche quindi partendo da un sistema più minimalista è riuscito a spiegare determinate cose credo cioè almeno quello che mi sembra davvero intuito anche perché io vi posso anche leggere tutto il papiro ma mi perderei io stessa capite perché è un po' complicato forse vi posso leggere per farvi capire comunque l'ultima frase l'esistenza di un minimo comune denominatore tra noi e le forme di vita più umili ci allontana una volta di più dal concetto cartesiano dell'animale macchina e solleva interrogativi etici ai quali non potremmo a lungo sottrarci anche questo lo mettiamo in wishlist e direi che poi cambiamo argomento perché se no facciamo un po' come con la collana degli horror dove ce li infilo tutti e ciao arrivederci variamo un po' poi ho preso l'uomo nero e la bicicletta blu di Eraldo Baldini che è un titolo che io ho visto citare da Silvia in un click su Instagram che è una creatrice di contenuti che a me piace tantissimo io vorrei veramente con tutta me stessa che questa ragazza creasse un canale YouTube perché è veramente bravissima se non la conoscete ma non penso seguitela su Instagram perché crea veramente dei contenuti diversi dal solito dove consiglia anche titoli differenti da quelli che si sentono solitamente un po' perché magari nel booktuber più famose ricevono anche i titoli gratuitamente e quindi poi ricevendo sempre i soliti parlano più o meno dei soliti titoli a volte non sempre capiamoci però spesso e volentieri così lei invece vedo che spazia molto nei generi e mi piace veramente un sacco come descrive i libri il fatto sta che ultimamente ci ha fatto una testa tanta su Instagram nei riguardi di L'uomo nero e la bicicletta blu che è un libro che appunto lei ha letto lei è piaciuto tantissimo e non ha mai compreso perché sia un po' nell'oblio nel senso che non è uno dei titoli che senti citare molto spesso ed effettivamente io qua vedo un grado di valutazione 4,5 su 395 voti ora non è famosissimo appunto come potremmo ben vedere ma è quotato molto bene siamo nel 1963 quindi siamo nel dopoguerra e il protagonista è un bambino di 10 anni che sogna una bicicletta che ovviamente la sua famiglia non si può permettere perché è povera Gigi si inventa mille lavori per comprarsi l'oggetto dei suoi sogni muovendosi in un mondo pieno di personaggi sgangherati come il Carlino con il suo testicolo enorme il morto che dato per defunto era poi ricomparso tra lo sconcerto generale e la vecchia Tugnina con le sue favole invariabilmente concluse dall'uomo nero che si mangia tutti fino a quando in un pomeriggio di ottobre l'uomo nero esce dalle fiabe per porre fine alla spensieratezza dell'infanzia uh no è drammatico mi aspettavo uno di quei libri tranquilli cioè tranquilli alle grotti invece mi sa di no vediamo dove l'hanno infilato narrativa contemporanea vabbè lo mettiamo in narrativa però mi sa che vabbè no nel senso mi piacerà sicuramente c'è proprio un libro dalle vibes che sento potrebbe piacermi molto però secondo me ecco parte bene per poi dare una bella stoccata ecco questo è vago presentimento passiamo ora all'anulare di Yoko Ogawa che mi ispira in primis perché è molto breve io sono alla ricerca ultimamente di libri brevi che però mi tengono incollati perché ho cioè allora io già normalmente sono lenta ma sto diventando ancora più lenta più che altro perché è un periodo che sono stanca ho un pochino più di impegni quindi secondo me questo potrebbe essere un titolo interessante altrettutto di Yoko Ogawa ho già altri titoli in libreria che sono una narrativa un po' disturbante quel genere che quindi piace a me ma non ho ancora letto nulla del suo cioè ce li ho in libreria ma non lo conosco ancora come autore o utrice ah ok mi sembrava no perché qua li chiamano tutti autore ma è utrice allora praticamente questo libro parla di una giovane ragazza che intraprende un nuovo lavoro molto particolare si ritrova in una sorta di bottega dove le persone decidono di lasciare determinate cose queste cose hanno una sorta di ricordo sì è un po' strana come racconto c'è una stanza dove lei non può entrare dove può entrare solo il proprietario e a questo punto quindi ci ritroviamo davanti a insomma delle situazioni alquanto strane è quotata anche molto bene 4,3 su 48 voti per carità niente di eccezionale però a un certo punto la situazione si fa interessante quando lei chiederà di poter conservare una cosa da quel che ho capito non so nient'altro voglio rimanerne abbastanza all'oscuro vi dico la verità perché insomma mi interessa quindi lo metto comunque nella narrativa però mi incuriosisce molto poi lo metto oltretutto insieme alla vegetariana di Han Kang che è un libro altrettanto disturbante questo già lo conosco meglio anche se non l'ho ancora letto quindi se le vibes sono quelle direi che ci siamo all'hallo in agitation perché è arrivato papà vero? è arrivato papà? sì? lo sentite in sottofondo sì allora è arrivato fidanzato quindi direi che posso chiudere questa bella listona con un ultimo titolo perfettamente nelle mie corde che è un horror e allora sì oggi abbiamo visto pochi titoli però insomma ne abbiamo parlato parecchio perché mi avete consigliato qualche titolo veramente interessante su cui dovevo riflettere un pochino meglio quindi il libro che concluderà questa sistemazione delle mie wish list Amazon è The Watchers loro ti guardano di A.M. Shine che è un horror appunto molto claustrofobico dove tu sei rinchiuso all'interno di un edificio e senti le persone che ti stanno guardando o meglio non penso siano persone ci hanno fatto anche una serie o un film scusate e la trama parte così tu non puoi vederli ma loro vedono tutto cioè quindi fantastico sono in questa struttura in mezzo alla foresta tutte le tutte appunto le macchine si fermano così a caso e quindi loro si ritrovano costretti ad andare all'interno di questo edificio un bunker di cemento inutile dire che se non raggiungi questo bunker per tempo non fai una bella fine fatto sta che è un bunker di cemento e vetro quindi praticamente cioè loro si ritrovano all'interno di questo bunker sono sia al sicuro ma vengono anche osservati da delle creature quindi bello 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 mi ispira un sacco l'ho anche visto un po' di tempo fa in libreria ero molto tentata di acquistarlo però poi ho detto vediamo se lo trovo all'usato l'ho trovato all'usato però avendo un prezzo umano una volta tanto stiamo parlando di 16 euro e 05 che rispetto ai 20 euro che ci sparano in certi casi è un prezzo umano con le spedizioni è tutto se lo trovo insieme ad altri libri è un discorso se invece lo trovo da solo non so quanto possa essere conveniente quindi comunque sappiate che su Vinted c'è se non c'è più vuol dire che sono passata io e mi sono decisa ad acquistarlo il fatto sta che la mettiamo nella wish list horror perché è veramente un titolo che mi ispira un sacco cioè potrebbe essere uno di quei titoli capite dove se ho qualche difficoltà in un periodo particolare una sorta di pseudo blocco del lettore questo mi sbloccherebbe immediatamente io già lo so detto questo spero che questo video vi abbia tenuto compagnia perdonate gli smoccolamenti iniziali ma abbiamo veramente un serio problema con internet però le mie minacce hanno funzionato perché nel corso della registrazione di questo video serviva internet e non è andato via quindi il mio sguardo è stato abbastanza minaccioso da indurlo a non andare via per quanto riguarda connessione detto ciò vi faccio ridare uno sguardo veloce veloce alle wishlist a parte quella romance che momentaneamente mi vergogno un po' farla vedere anche se c'è un titolo solo quindi ve l'ho già fatta vedere prima questa è la nuova wishlist di saggi come sono curiosa ragazzi ogni volta che vedo questa wishlist divento curiosa come una scimmia ve lo giuro in narrativa invece lo stesso ci sono finiti un bel po' di titoli vabbè la narrativa è sempre quella più ricca perché è quella che spazia un pochino di più perché anche libri magari un pochino più disturbanti o nostalgici comunque sia in generale per esempio l'uomo nero e la bicicletta blu potrebbe essere anche uno storico potremmo considerarlo anche così però io solitamente la categoria storici non la faccio perché non è un genere che solitamente leggo e la infilo direttamente in narrativa è buona lì però sì comunque ci sono all'interno di narrativa tanti sottogeneri interessanti che ovviamente Amazon non ti fa fare perché se ci fosse stata la possibilità di fare delle sottoliste sarebbe stato veramente fantastico in fantascienza e distopici c'è finito il primo titolo che mi avete consigliato questo qui la casa sull'estuario e negli horror siamo stati un po' tirchi la prossima volta recuperiamo The Watchers anzi vi chiedo proprio a voi visto che appunto sto cercando di recuperare un po' di vostri commenti e tutto consigliatemi horror e thriller a go go cioè proprio voi una puntata dove organizziamo nelle wishlist tutti i thriller e gli horror che mi consigliate ora alcuni magari li avrò già letti quindi magari vi scrivo sotto no guarda li ho già letti grazie e quindi no problem voi andate voi non vi preoccupate voi scrivete consigliate prima o poi arrivo a leggervi però voi lo sapete io con i commenti sono molto precisa nel senso che cioè voi perdete il tempo e l'attenzione per scrivermi quei commenti quindi io ci devo prestare il giusto tempo e attenzione per rispetto vostro quindi io mi prendo sempre i miei venti minuti mezz'ora a volte anche ora per riuscire a leggervi bene rispondervi salvare quello che mi serve quello che posso infilare nei video quello che mi consigliate eccetera eccetera ma appunto c'è bisogno del suo tempo e vediamo un attimo piano piano arrivo a leggere tutti quanti però sappiate questo nessun commento verrà lasciato in un angolo detto ciò noi ci vediamo la prossima volta e fino ad allora come sempre buona lettura a tutti e grazie mille per i consigli ciao grazie mille